Allora, facciamo il gioco dei piedi, ok? Perfetto, Antonio, Antonio, Elona, bravissima, Giulia, Sara, Giulia, stop, scorsi dietro, via! 1, 2, 3! 100, stop... 3 4 5 5 6 7 8 8 8 13 15 15 15 16 17 15 16 16 17 17 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.